a vandalazzi ciao ragazzi come state non è la d'urso vabbè scherziamo un po per alleggerire questi colori allora io intanto vi pulisco i denti perché ho appena mangiato come come savar come savar come vedete il mio look è cambiato io se non mi dessi o dassi fatevelo da voi soli come vi piace di più i cazzotti in testa e porco dire la madonna così sarebbe molto meglio perché mi sono fatta tanti buboni ma tante cose che quando me le vado a darmi fa pure male ecco qua ce n'è un altro qua ce n'è un altro e qua dietro tremendo allora a vandali come vedete ho cambiato il lucco il lucco ieri sera mi sono fatta la doccia e capelli non si parlava mai che sempre che le capelle corte no mi lavavo però non mi lavavo la testa perché comunque non era da lavare anche perché quando metto mo mi giustifico noi quando uno fa una cosa che non deve fare scusate ma io mi potevo lavavo i denti prima vabbè ma io sono così e lo sapete quindi sono nature allora intanto mettiamo il cuscino sotto perché così mi appoggio e mi sento ah mo mi sento mia e praticamente che succede praticamente questo praticamente guardate il boccolo qua che bello entra qua allora quando metto il gel you gel a porco di i capelli di merda i capelli di merda allora quando metto il gel che succede che il capello si sporca prima poi pizzica perché il gel pizzica invece me l'aveva fatti lisci luce allora oggi è stata la prima giornata che luce è riuscita ma sta impunizionissima perché comunque gli mettono tappetino a cusci grosse come studi bene dove cazzo devi pisciare o al bordo del tappetino e poi per terra oppure proprio direttamente per terra in cucina mo sappiate su vizio anche perché io devo iniziare a porco di capelli down devo iniziare a pulire o con il sale o con l'ammonia come si chiama quella oddio ma non mi aiuta nessuno perché sto a fare il video non sto a fare la diretta l'acqua ossigenata perché praticamente il la varichina che io giustamente metto a proprio a iosa perché proprio gli et yonder la varichina prima a iosa poi yonder vabbè e praticamente che succede che gli dà un senso proprio gli richiama di fare la pipì perché c'è una composizione mi hanno spiegato la varichina che il cane l'annusa e ci va a pisciare quindi qua pisci a tutte le parti ok allora vi piacciono questi capelli a me tanto questo taglio me l'ha fatti belli non si arriccia a poca taglio mo oddio mo perché stingo a cuci perché stingo a cuci mi dice mia mamma ma state un po calma mamma ci sono state nervose cioè se io ho proprio il nervoso dentro proprio dentro però non è perché sto nervosa non ho qualche problema o qualche motivo che mi faccia nervosa stingo e basta punto allora praticamente il capello è fatto scalato non scalato fatto a accoggio d'embrelle oggi sto mattogna allora il capello è fatto così scalato però qui si arriccia perché più lungo e qui fa queste punte qui lisce il che non ci dispiacciono per niente perché io me li tocco spesso e quindi va bene va bene anche liscio luce o sali qua sopra o te ne vai là in letto decidi vieni a bordo dai sali a buca daos porco di capelli daos i tre camerati eccola ecco luce che sta in facciamo così luce facciamoli vedere come facciamo così no non dobbiamo far vedere che tu ti rotoli sul divano dai facciamo così mammi guarda guarda un po come facciamo luce ora quando è mongoloide ecco la lucetta facciamo allora io mi metto vicino a porco di capelli daos siccome a lei piace proprio darti i bacetti lecarti così e lei fa io mi metto vicino e faccio a porco di capelli daos io mi metto vicino e faccio però un po da lontano perché mi da faccini che mi lecco io faccio e lei fa e insieme facciamo è vero nanni è vero mammina guarda come stai guardate come sta luce in castigo guardate il castigo di luce dopo ci puoi sentire per oggi abbiamo fatto una bella camminata siccome qua ci stanno i cani che vanno sciolti e poi se si attaccano con luce oggi mi sono portata una mazza c'è true prima che ci capite e mi dispiace o tu o io e anche perché gli hanno fatto mette cinque punti totino è vero totino tatella poi si aggro cioè se ne sono due tre si si fanno branchetto capito pure che sono piccolini gli hanno fatto mette cinque punti vabbè comunque allora innanzitutto voglio salutare una ragazza che si chiama ramona canto io non so se mi guardi ramona però ti voglio dire grazie pubblicamente perché ieri entrando a tic toc mo sicuramente se mi sente mia amma dici ma non te poti va a lavare le dita invece di far cucire sicuro allora ramona canto io su tic toc non ci vado spesso ogni tanto a cazzeggiare un po così perché la si cazzeggia insomma non è una cosa seria ma mi sono a proposito il costo diritto mi sono dimagrita mi sono dimagrita dai mi sono sfinita un pochino me l'ha detto pure quello del bar che mi ha incontrato per strada metto ammazzo come ti dimagrita vabbè quello dici per scherzo sono diventata trasparente allora praticamente che succede che io vado su tic toc mi arriva una notifica di una bella ragazza ramona canto si chiama come nick non so si chiama ramona canto ma non credo non usaggio e io vado a leggere perché ero entrata ragazze andateci a vedere e vandali a parte per quello che dice lei il suo quello che mi ha detto lei poi quando è brutta a far cucire comunque ragazza scusatevi è praticamente questa perché ho mangiato i cereali con i pezzi di cioccolata allora biscotti con i pezzi di cioccolata alla fibra allora questa ragazza io ero andata per pubblicare andate a vedere tutte e due dei video andate a pubblicare un video che mi è passato sui ricordi di facebook di mio figlio una performance atletica tremenda a parte che mio figlio vabbè a parte a fare a parte fare palestra da tanti anni però ha fatto anche sette anni di danza ha fatto proprio io solo a vederlo cioè solo a vederlo da un banchetto ha avuto un banchetto alto proprio alto più o meno la metà di me la metà di me è poca salì la metà di me ci sai pure un po' alle mie spalle non lo so vabbè come una sedia alto lui da vicino da vicino c'è salito c'è salute c'è salute ragazzi quanti giorni ci sale c'è salute e quindi c'è salito bello preciso io a vedere quello così ho detto quello è mio figlio e l'ho pubblicato perché comunque mi mi riempie di orgoglio questo è il trapano mi riempie d'orgoglio no a vedere queste cose che lui fa con tanta fatica adesso a porco di capelli down sta sotto mentre io mi sono fatto solo la discesa di del mio paese la salita che faceva così mio figlio sta sotto ad allenarsi io se ci avessi avuto il tapirulano l'avrei fatto quanto sono carini i capelli sempre fatto a mano le bucculette l'avessi fatto anch'io allora questa ragazza in questo video diceva eccolo mi sono imbattuta porco di capelli down che tra bomba a mano mi sono imbattuta in un video della signora marchetti sabrina e ho visto molti commenti brutti ma non ha visto niente perché ha visto qualche commento perché se andiamo a rispulciare i due anni ragazzi qua ci vuoi veramente la gerose batica però abbiamo combattuto ci abbiamo saputo difendere benissimo e a volte con un po di nervosismo a volte con il sorriso però ci siamo saputi difendere bene questa ragazza dice la signora sabrina a buca pausa tic e tag bomba a mano vive la sua vita e la sua patologia con ironia cose che non riescono a fare tutti i ragazzi perché i ragazzini che vengono bullizzati altro che ironizzare oggi stanno male capito ci soffrono quindi no al bullismo ma non solo ai ragazzi pure a me o pure a me non mi bullizzate anche se ironizzo e vedi in quattro schiaffo sull'humus però non mi bullizzate va bene comunque io ripeto sempre che muo è diventato un mene un neme un neme come si dice un modo di dire i miei amici dicono tutti sabri com'è il cervello come uno spielo di bottò quando una persona non riesce a ragionare con il cervello e questo succede allora questo video è nato perché un ragazzo mi ha chiesto parecchie persone veramente non è un diciamo molta gente ma no due tre persone mi hanno chiesto a poco da us guardate luce cioè questa è la sua punizione sulla bel divano morbido candido e tutto a poco dai eccolo come sabrina come mi faccio ad accorgere se una persona non mi vuole più o non mi pensa più ma sia un amico con un amico un'amica con un'amica un'amico con un'amica due amiche insomma qualsiasi cosa che sia di amicizia di sentimento e qualsiasi voglia argomento allora come ti fai a correre ah che bella domanda domanda a porco di ah voi mi fate delle domande proprio stratosferiche allora una domanda da 100 miliardi di euro che poi se io la vinco me li date chiaramente no 100 miliardi allora come fai come fai è difficile difficile perché comunque tu credi a quella persona magari ti dai delle noi diciamo non ti dà le calle le calle significano non ti da giustificano di giustificare dentro di te non ti da come si può dire non ti da ecco non ti da gli zuccherini non non ti non ti illudere ecco questa è la 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 cosa in dialetto non ti da le calle noi dicevamo noi in comunità non ti da le calle perché tanto qua c'è trippa per gatti e quindi come si può fare innanzitutto io credo che una buona introspezione dentro di sé è molto importante cioè quella gente che è abituata a fare meditazione come io sono abituata a farci per esempio le fregature quindi non meditate gente non meditate no una buona meditazione va fatta ogni tanto va fatta il punto della situazione però molto spesso le persone che non ti vogliono sentire ti dicono bugie e magari ecco ne faccio un po di esempi così possiamo raggiungere la conclusione del discorso che ti possono dire magari non ti vogliono dire non ti voglio sentire più non vuoi sentire ecco io ripeto questo sia nel campo sentimentale sia nel campo amicale amichevole e amicale amicale mi sa che si dici comunque io quando uso le parole difficili poi mamma mangiampa sempre parla come amiche sabre allora nel campo amiche di amicizia no allora se una persona devo sentire comincia a fare oddio quando so strac magari tu li chiami oddio guarda ho lavorato così tanto sono stanchissimo e adesso mi vado a fare una doccia e mi metto a dormire perché domani mi devo alzare presto cioè tu dici vabbè ho lavorato a tanti su tutti quanti lavorano non è che qua stiamo alle miniere capito che hai lavorato alle miniere sei stanco però anche per dieci minuti un quarto d'ora di conversazione smornicione al limite ti metti allungati con la tua cuscina e conversi se hai voglia di conversare con una persona perché quando c'è l'affetto quando c'è la volia c'è l'amore cioè non c'è né sonno né stanchezza capito ma lo sappiamo vero anche se noi siamo vecchi vecchietti e questo argomento l'abbiamo un po' accantonato però noi voi giovani lo dovete sapere che quando c'è un entusiasmo un entusiasmo non c'è vabbè volevo dire una frase un po' volgare ma meglio che non la dico non ci sono cazzi ecco ve l'ho detto allora quindi però un'altra cosa molto importante da fare secondo me secondo me poi ognuno fa come si parte è vandalo e cercare di mettersi di fronte al problema nel senso che se tu ti metti troppo vicino a una cosa tipo io mi avvicino qua vedo tutto sfogato se io mi metto troppo vicino al sole cioè troppo con gli occhi al sole ma abbaglio quindi non vedo nulla no allora se tu ti metti troppo vicino a questa persona cioè distaccati un po' perché le cose le vedi meglio e poi quando io credo che qua già da quando ti sei accorto che questa persona non ti vuole sentire più e già tenere accorto un po' prima che questa persona te lo diceva io credo perché comunque gli atteggiamenti i modi di fare il telefono sempre online whatsapp per esempio online questo per i ragazzi no che usano molto whatsapp ma pure noi vecchi usiamo whatsapp però per i ragazzi che usano whatsapp online 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 a te la tua risposta la vedi la sera non tratta quando è strac quando è stanco che dici oddio ma sono stanco non ti posso rispondere ma ti ho risposto giusto per educazione però ti ho risposto giusto per non ti ci fa rimanere male perché ti voglio bene però guarda capiscimi ma io proprio sono di una stanchezza enorme non ce la faccio più perché ha dovuto sponare a tutti gli altri whatsapp giustamente si è straccato ecco quindi già questo è un segnale no cioè questo qua che noi usiamo questi network magari sta online su facebook mette i mi piace i cuori ma ci stanno pure gli abbracci un altro po' ci sta pure gli abbracci il mulino bianco un altro po' pure banderas avvocato un altro po' ci sta la faccia di banderas con la gallinella che dice è la casa del mulino bianco mostrano anche gli abbracci abbracciaiosa che poi magari ti incontro per la città ma anche te cac però voglio dire gli abbracci nelle foto a te pubblichi 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 e non avvallate l'ipotesi oddio è che mi sono detto un altro termine stratosferico non prendete l'ipotesi non credete all'ipotesi porco Dio la madonna di Cristo ok dice ma io non ti commento perché sono timido perché magari mi interessa e quindi quelle persone che gli interessi i commenti mennero perché se una persona ti interessa la commenti e gli metti mi piace eccetera 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 e quindi e quanto questa non è una mia frase ma me ne sono appropriata mi dà pure fastidio però mi esce e facciamolo uscire va bene allora quindi io penso che poi che ci può stare magari non si fa trovare nei tuoi nei soliti posti che frequenti e che conosci anche tu nasce l'esigenza di sfuggirci per non ferirci di più certo che lo so non ti preoccupare oddio oggi avrò da lavorare è tanto grande questa città vabbè basta allora praticamente sapete io ho due batterie uno di qua e uno di là quando canto tocco qui quando parlo tocco quest'altro allora oppure non ti vuole sentire più che può essere che magari qualsiasi cosa gli chiedi tu o andiamo lì facciamo quello facciamo quell'altro no o c'è la mamma che ne sta buona o c'è la nonna che si sta per morire o c'è che ti devo dire una perdita a casa un diluvio universale cioè qualsiasi cosa si inventerà per non ma poi sono cose no che se tu poi ti ci metti a pensare quando ti distacchi dici ecco chi era allora quella cosa quella cosa e rifai un reset no e il cervello resetta il cervello in camera e poi resetta mia mamma fa la differenziata io invece resetto ripenso ecco chi era la cosa allora ecco perché la fa mo so capite perché que e que e que due più uno fa tre e e là poi hai la consapevolezza e poi che devi fare devi prendere la persona e devi dire vai allora no perché comunque se una persona non ti vuole sentire lasciala andare e se torna dagli no diceva se torna sarà tua per sempre ma non è vero perché se torna una bella zampata in culo e non ti vuole sentire io credo che queste piccole cosine queste piccole pillolette vi sono servite perché se no faccio un video troppo lungo avrei altro da dire però facciamo i video troppo lunghissimi troppo lunghissimi è bellissimo troppo lunghissimi e allora niente io vi auguro di trovare sempre gente leale perché queste persone premeditano no cioè perché per fare queste bugie ci vuole una premeditazione cioè allora mi chiami faccio le persone che premeditano non sono belle non sono leali non sono sincere e sicuramente ti danno delle grandi delusioni e fregature e poi ci rimane male perché comunque tu ti indanno all'oc e dici vabbè ma io poi magari se ne esce con la frase se tu insisti non insistere lascia perdere perché se tu insisti dici vabbè ma siamo amici siamo liberi c'è il libero arbitrio oh trovo di tutti le culure mentre tu gli vorresti dare solo un po' d'affetto e cerchi quell'affetto cioè dare un affetto e cercare affetto non è una cosa cioè diciamo non è un peccato e non è una cosa penale è una cosa bella una cosa che si dovrebbe apprezzare no? ma siccome noi svolazziamo di di prato in fiore e quindi ci piace un po' sricchernare di là di qua di su e di giù e queste persone ragazzi che se vi fanno così non servono a niente lasciatele andare perché è meglio avere due persone come amico come vabbè come sentimento meglio uno perché se no facciamo come la De Blanc che ha detto io ce ne avevo due se un altro uno non voleva uscire uscire con un altro quella vabbè è stratosferica comunque gli amici meglio pochi ma non è un detto a poco d'aus popolare è vero a porco dire la Madonna di Cristo è meglio pochi che no che non ci va meglio pochi e buoni perché contornarsi di gente intorno che ti riempie di di bugie oppure di quel falso affetto che manco loro può darsi che queste sono persone che non manca amare forse non perché è una persona che non ha il coraggio di dirti chiare chiare le cose e poi fa le cose dietro ecco non credete nemmeno non te l'ho detto per non farti soffrire ma ora ti dico quattro schiaff non te l'ho detto per non farti soffrire perché così che cazzo mi stai a fare mi stai a fare soffrire uguale quindi lasciate correre anche questa frase che non serve e allora io credo tesoro che queste piccole cose che tu metto come faccio a capire quando una persona non gli interessa io penso che ti riferivi a qualcuno o qualche persona che amavi o qualche persona che ci tenevi perché l'amore può essere anche amicizia è un amore universale no e spero che ti siano servite altro non mi viene in mente perché boh ah ecco sono contenta oggi perché ha riaperto il piccolo bar cioè io abito in un paese dove c'è un barretto solo vedete un po' non so i tardanà c'è questo barretto che al limite se ti serve le sigarette se ti serve un chilo di farina un po' di lievito il pane qualsiasi cosa c'è anche una dispensa ma soprattutto è una presenza che tu ti fai una camminata e ti fai una chiacchierata insomma ecco con gli amici del barretto gli amici del bar che l'hanno soprannominato il bar a poco d'aus ma veramente bar a poco d'aus per ridere perché se no il bar è ventesimo secolo ho fatto anche un po' di pubblicità gratuite ma ne fa niente anche perché non è mi bannano guardate la paparella quando è bella là sopra allora oggi mi sono svegliata tranquilla anche perché quando vedo uno spiraglio di sole che sta in giro anche un po' a nebbiatello però a me mi fa piacere adesso andiamo a lavare i panni devo andare sotto al garage a lavare i panni poi devo stendere ho fatto i biscotti e volevo dire che sono contenta perché mi sono riattivata la circolazione perché ho camminato e tutto io mi ero sacre io dopo succede che mi lockdown mi schiaffo sul divano grazie a Dio perché mia mamma pur mi ha spronato le mie amiche ma che è sul letto dentro sul letto sembra ammalata ma in effetti io sono malata cioè non è che sembro sono malata però sempre dentro il letto sarcofagata non poteva essere e quindi ho comprato questa copertola e mi sto sul divano con i piedi così mi vedo mi vedo le mie trasmissioni invece di ciecarmi a vedermeli sul computer ho fatto i biscotti no i biscotti quelli che faccio spesso però anche lì metti farina levi farina metti farina levi farina cioè io ho un problema vabbè facciamo un po' un pur parlay oggi chiuso un argomento se ne passa un altro allora io quando ammasso faccio io ho fatto sempre la pasta il gnocchio e tutto quindi viene un pochetto duro gli biscotti e gli tarali che cavolo so quelle no le biscotti quelle lì i marituzzi allora cioè ci vanno il gnocchio di farina no io ammasso i cedingamenti cioè c'è proprio a porca d'aus compulsivo capito un po' di farina di più e dopo magari va un po' durette va bene comunque va bene lo stesso tutto quello che si può è mangiabile commestibile è buonissimo quindi io aspetto la lievitazione dei marituzzi e poi mi passo questa serata e trascorro questa serata da sola perché non ci possiamo come si chiama vabbè una persona due però è meglio che non facciamo i grandi ecco ragazzi io vi volevo raccomandare ah porco dio eh porco dio angolo porco dio la madonna di cristo se porco dio la madonna di cristo se una persona ha una famiglia di sei persone o barra cinque cinque sei barra sette otto va bene pure perché ne è che le può cacciarla fuori però cercate di mangiare un po' distanziati se vabbè però se siete congiunti come dice il conte siete congiunti perché però se il conte ha levato pure san giuseppe perché che dici che la madonna ha fatto con spirito sanno nel congiunto figurse noi se possiamo stare insieme io e mio figlio ne siamo due però lui va non lo so sì faremo il natale insieme vabbè se una persona sono tre quattro va bene pure ma ne inviete a pia le fardille delle tre famiglie le nunne le zie perché tanto guardate non li vedete quest'anno li vedete un altro anno se non vedete un altro anno ammen cioè dobbiamo accettare questa cosa perché dopo ci rinchiudono se a natale a porco di la madonna se a natale porco di la madonna di cristo rifacciamo come quest'estate che hanno aperto le discoteche intanto vi faccio vedere i capelli con un argomento così serio i pensieri capelli allora se facciamo come quest'estate che i ragazzi aperti le discoteche si sono strusciati hanno fatto le macille oppure i capodanni stratosferici allora tanti anni abbiamo fatto i capodanni da solo perché siamo depresi perché la confusione ci dava fastidio perché bastano questi capodanni perché si paga troppo al cenone e dopo non si può ballare insomma tanti frizzi e frazzi poi quest'anno dobbiamo fare per forza il capodanno cioè ma proprio siete di coccio quindi stemici alla casa tranquillo magari una persona due va bene pure però cioè tutti sti aggromentamenti di sti affollamenti di persone su facciamo un altro anno il capodanno che ci deviamo morire domani poi ci muremo e ci l'arcurdiamo e soldato morto guerra finita questa è una guerra ragazzi ricordiamocela è una grande guerra è la terza guerra mondiale ma è successa la terza no c'è stata la seconda poi la terza è questa questa è la terza guerra mondiale però prima ci stavano le bombe ma sta nell'aria quindi non sai dove lo prendi se lo prendi non lo prendi lo prendi lo prendi lo prendi lo dai lo prendi lo dai arangione giallo verde ci stanno a matten quindi cerchiamo di starci nel nostro che sicuramente porcodile la madonna di cristi e luce e luce e luce poi ecco domani devo andare al comune devo andare giustamente vado a fare anche la spesa non è che sono paraplegica che mette qua dentro e clis tambelle cioè che glaseggia rutelle insomma anche io cammino per il mondo e vado però cerchiamo di trovare le accortezze giuste non ci agglomeriamo perché dopo ci rinchiudono va bene allora io dopo 30 minuti mezz'ora che vorrà ammorbato proprio ammorbato spero di aver soddisfatto le vostre domande che mi avete fatto al prossimo video io vi voglio tanto bene e ci sentiamo presto per un video in diretta perché mi piace fare più le dirette dove io vi leggo e stiamo insieme questo è un video che parla da sola e quindi me lo vai dal lato di qua clic ho spento ciao ciao